Come si occupa di aiutare le imprese a investire sui territori? Ma non solo, in cui alcuni progetti hanno difficoltà ad andare avanti, vuoi per questioni di carattere politico o di conflitto politico, ma soprattutto per questioni legate all'accettabilità e alla sostenibilità ambientale. Il nostro gruppo è esperto di processi di partecipazione e di accettabilità sociale. Quindi ci siamo dati questa missione a livello nazionale, un po' ambiziosamente, di convincere le imprese a investire in accettabilità e in sostenibilità e quindi in dialogo sia con i territori che con le istituzioni locali. Cosa che, devo dire, purtroppo spesso è mancato, soprattutto in passato. Quindi la nostra testimonianza qui oggi a Bari è dare conto della nostra attività, che ormai si realizza da molti anni, e permetterci anche di suggerire qualche buona pratica sia alla pubblica amministrazione locale che alle aziende che hanno desiderio di investire ancora in questi territori, in generale nel nostro paese, a muoversi in maniera più strategica, più accorta e più attenta ai territori rispetto a quanto spesso è stato fatto fino a oggi.